Merita Business Podcast, puntata numero 31. Il concetto comunque è di comprare un sito, un sito web, che già genera dei profitti, che è già avviato, che ha già del traffico e lavorare per cercare di renderlo più profittevole. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi lavorare da qualsiasi computer come se fosse il tuo? Con Safety Cloud Virtual Desktop puoi lavorare comodamente con le tue applicazioni, i tuoi dati e il tuo desktop su ogni dispositivo, anche mobile. Visita safetycloud.it slash Merita per provare Safety Cloud ed avere così diritto allo sconto esclusivo riservato ai follower di questo podcast. Eccoci qua, io sono Giorgio Minguzzi e credetemi, sono veramente impaziente di ascoltare l'ospite di questa settimana. Oggi parleremo infatti di un argomento di cui si sente parlare davvero poco, ma che ha messo in moto immediatamente la mia curiosità, appena ne ho sentito parlare. Parleremo infatti di compravendita di siti web. Sì, parleremo di web properties. Avete mai pensato che potesse esistere un mercato di siti web usati? Non parlo di domini, questo magari lo sapete, si conosce, si sa, ma di siti e portali e di tutti i loro asset. Una sorta di website real estate che ha per oggetto le costruzioni digitali e non i palazzi e le case in muratura. Nella puntata di oggi scopriremo un mondo interessantissimo, non solo di compravendita, ma anche di ristrutturazioni digitali. Ci accompagnerà in questo viaggio Daniele Besana, esperto conoscitore del Virtual Real Estate Market. Per chi non conoscesse Daniele Besana, Daniele, dopo una carriera di 12 anni nell'informatica, che lo ha portato a vivere in Olanda, sì, oggi siamo collegati con Amsterdam, oggi è un imprenditore di successo nel web. È fondatore di WPOK, un servizio di supporto e manutenzione per siti in WordPress. Daniele gestisce anche diversi progetti online, molti dei quali acquistati. Oggi Daniele ci spiegherà cosa significa comprare un sito web. Daniele, benvenuto su Merita. Grazie Giorgio, ti ringrazio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie a te per essere qui. Oggi parliamo di un argomento che a me ha veramente stuzzicato la curiosità. È un argomento di cui prima avevo sentito pochissimo parlare, se non quasi nulla. Oggi quindi parliamo di compravendita di siti web. Perché è interessante dedicarsi alla compravendita di questi siti internet? Sì, come dicevi, la compravendita di siti internet è un argomento di cui si parla poco nel mondo online. Sembra un po' un underground. A volte si parla di comprare web properties, altre volte si parla di virtual real estate per fare una certa comparazione con il mondo degli immobili. Oppure viene chiamato website flipping perché flipping è proprio l'operazione di scambio, insomma, comprare e vendere. Il concetto comunque è di comprare un sito, un sito web, che già genera dei profitti, che è già avviato, che ha già del traffico e lavorare per cercare di renderlo più profittevole. Poi si può scegliere se questo sito si vuole tenere, quindi creare un portfoglio di siti, oppure se è finita l'operazione, diciamo, come un immobile che viene ristrutturato e nel quale viene aumentato il valore, poi si può decidere anche di rivenderlo. Personalmente lo trovo molto interessante per un paio di motivi. Il primo è che è una scorciatoia, lo vedo come una scorciatoia che permette di mettere mano ad un sito che già funziona e già genera guadagni. Insomma, tanta gente vorrebbe fare soldi online, ogni giorno partono tantissimi progetti nuovi, però è anche vero che probabilmente il 90% di questi progetti non arrivano mai neanche a fare il primo dollaro, per una serie di motivi svariati. Ecco, poter già mettere mano su un sito che genera dei soldi è una bella scorciatoia, diciamo, si risprime a tempo, però richiede un investimento di soldi. Questo discorso di comprare o costruire è un dibattito che è sempre acceso e ci sono persone che sono pro o contro il comprare, pro e contro il partire da zero, chiaramente. Io, ripeto, lo vedo come una scelta personale, lo vedo come una scorciatoia. È un'opportunità, è un'opportunità comunque. Se tu ci pensi a un negozio che dice, va bene, io ho un negozio fisico, voglio fare un e-commerce, perché partire da zero, con zero email, zero visite? A proposito, quando comperi il dominio è una cosa, diciamo, abbastanza comune dire, vabbè, questo dominio è occupato, pago e lo riscatto, lo prendo, lo compro da qualcuno che già ce l'ha. Però comprare un sito è una cosa un po', come dicevi, non è che si sente tantissimo nei discorsi che si fanno in rete. Ecco, quando compri un sito, compri il dominio o anche tutti i dati, le mailing list e il database dei clienti? Perché questo fa veramente la differenza? Sì, in questo contesto si parla di comprare un sito, si intende tutto l'asset che definisce questo tipo di business online. Quindi, non solo il dominio, ma anche i file, il database, insomma, il sito funzionante con tutte le componenti, la mailing list, le eventuali pagine che ci sono nei social network, se il sito rivende degli infoprodotti, anche gli infoprodotti devono essere parte dell'acquisto e anche il diritto di rivendere questi infoprodotti e il diritto di tutti i contenuti che possono essere articoli o quant'altro che ci sono sul sito. E questo dà anche un grande vantaggio perché, in realtà, comprando un sito esistente, si ha anche accesso a uno storico di informazioni che permette di capire delle dinamiche di cosa funziona e cosa non funziona nel sito. Per esempio, di solito si trasferisce anche l'account Google Analytics, quindi si possono vedere magari anni di statistiche e capire quali articoli hanno funzionato nel tempo, quali hanno smesso di funzionare, come sono cambiate le cose. Facendo una certa analisi, quello che si compra e anche tante informazioni che hanno molto valore. Certo, è molto interessante, soprattutto per chi vuole vedere di fare da subito magari un passo un pochettino più lungo e non partire da zero. E sapete quanto è difficile seminare da zero, poi aspettare il raccolto, è molto molto complesso. La mia domanda però è, come fai a trovare dei siti in vendita? Cioè, trovi solo dei cadaveri che poi hanno smesso di funzionare oppure c'è anche qualcosa di più? Cioè, esistono degli annunci con siti che, diciamo, vanno o solo siti sul punto, sull'orlo di una crisi di nervi? Sì, è sempre una delle prime domande, insomma, comprare siti? Sì, ma dov'è che si comprano questi siti? Ci sono, diciamo, tre canali principali. Uno sono dei siti di compravendita, cioè dei veri e propri marketplace. Pensa a eBay, ma con dei siti invece di vendere prodotti. E anche alcuni utilizzano lo stesso concetto di comprare all'asta. Il più famoso, il leader del settore è Flippa.com e ce ne sono altri questi marketplace. Attenzione che comunque Flippa.com è molto popolare in questo settore, però è anche vero che bisogna stare molto molto attenti perché non tutto quello che si trova e sono buoni affari, anzi, ci sono decisamente una certa percentuale di siti in vendita che sono delle mezze fregature. Per cui, attenzione, cioè vorrei mettere in guardia comunque questo. Se si vuole investire nel web bisogna fare molta attenzione e verificare tutto. Ci sono degli altri marketplace un po' più controllati, ne cito uno che si chiama EmpireFlippers.com dove fanno un primo controllo di chi è il venditore, chi è il compratore, quindi alzano un po' il livello per dare valore aggiunto. La seconda canale sono dei broker, che sono proprio degli agenti, come ci sono degli agenti immobiliari, funzionano allo stesso modo. Mettono in contatto il venditore e il compratore, anche loro fanno un certo livello di verifica per cui danno maggiori garanzie e seguono l'acquirente e il compratore attraverso tutto il processo di ricerca del sito, di valutazione del sito e poi di chiusura del deal. Cito due, uno è latonas.com, l'altro è feinternational.com. Che storia, questo è un mondo particolarissimo. Sì, si sta sviluppando molto anche. Adesso ti dico l'ultima che ho visto, sono dei fondi di investimento in cui tu metti i tuoi soldi come investimento e questi soldi vengono poi usati per fare degli acquisti di siti web e gestione di siti web. Come se fossero delle azioni. Sì, come se fosse un private equity, delle azioni però che vengono usate da chi lo sa fare per investire in web. Il terzo canale è invece il contatto diretto. Cioè, vuol dire, io trovo un sito che mi interessa, contatto il proprietario, il webmaster attuale e cerco di... proponendo l'acquisto. Questo, diciamo, è l'approccio più difficile però quello forse per certi versi più interessante perché comunque ha le sue sfide perché tante volte una persona non si aspetta che uno gli chieda... voglia comprare il proprio sito e quando si vede arrivare una richiesta spara subito. Sì, te lo vendo per un milione di dollari anche se il sito vale molto meno insomma, ha le sue sfide, ecco. No, questo è chiaro. Mentre parlavi mi veniva già in mente magari mi chiedessero di comprare quel sito che ho che non ho più tempo di aggiornare che è lì, che ha fatto qualche centinaia di iscritti alla mailing list però io non gli iscrivo mai perché non ho più tempo, no? Ecco, quali sono le tecniche che usi per provare ad approcciare potenziali siti da comprare che non sono però nei marketplace o che semplicemente non dichiarano la loro intenzione a voler vendere, ecco. Sì, allora una tecnica che mi ha dato... Allora, chiedere direttamente in una mail ah, ciao, voglio comprare il tuo sito non funziona molto. Una tecnica che ha funzionato è chiedere approcciare comunque l'attuale proprietario dicendo, mostrando un interesse a fare pubblicità sul sito. Quindi, insomma, c'è un po' una miglior risposta e volendo fare pubblicità sul sito si ottengono delle informazioni tipo qual è l'audience del sito informazioni sul traffico che sono, insomma, informazioni interessanti. Scusami, queste informazioni te le fai dare con degli screenshot di Google Analytics o ti fidi di quello che ti viene detto? Ma in questa... Nella fase iniziale... Nella fase iniziale mi fido di quello che dicono però, ripeto, una fase molto iniziale cioè, l'obiettivo di questa cosa del chiedere informazioni per far pubblicità è semplicemente creare un primo canale e iniziare una conversazione con la persona. Poi, qualora la cosa continuasse allora si parla di un interesse reale a comprare il sito e allora la valutazione vera e propria viene fatta in modo molto diverso molto più approfondito valutando i dati reali. No, no, chiaro, chiaro molto interessante. Poi un altro approccio che ha funzionato a comprare dei siti che sono stati precedentemente venduti su dei marketplace perché capita anche questo che magari qualcuno compra un sito su Flippa perché dico Flippa che è il più grosso marketplace e dopo magari un sei mesi le cose, non so, non vanno o sono cambiate quindi si potrebbe approcciare il proprietario del sito che è comunque una persona che sa già come funziona la compra-vendita perché ha comprato questo sito su marketplace e in quel caso lì se è interessato tutta la procedura funziona in modo abbastanza più veloce più spedito decisamente. Certo. No, no, mi hai fatto venire voglia di andare su questi siti e dare un'occhiata a che cosa vendono però mi è venuto anche in mente che ok, io acquisto un sito che magari è un e-commerce con un fatturato interessante lo acquisto però magari non so nulla di quello che vende quindi tutte le volte che devo creare un contenuto boh, devo imparare da zero diciamo ad argomentare su quello di cui il sito è a oggetto e quindi non è così semplice e come posso fare marketing efficacemente se il settore poi è distante dalle mie esperienze pregresse ha senso comprare un sito così? Guarda, è proprio una delle cose degli errori che ho fatto io inizialmente perché avevo comprato dei siti che erano dei siti di lavoro in paesi latinoamericani di cui non sapevo quasi nulla se non che c'ero stato una volta e cioè non avevo nessun contatto nell'industria non sapevo quali erano le difficoltà delle aziende le difficoltà di chi cerca lavoro là su una lingua che non è la mia prima né la mia seconda lingua per cui bisogna stare attenti però un sito un sito web è qualcosa con tanti elementi da bilanciare un business online ha tanti elementi da bilanciare e secondo me il punto fondamentale è comprare qualcosa su cui si in cui si può dare del valore aggiunto ci sono dei ogni sito ogni business online ha qualche punto di forza e qualche punto debole magari un sito funziona bene però la parte grafica è terribile sembra un sito degli anni 90 allora in questo caso chi ha competenze di design può dare può aggiungere valore può fare la differenza fare la differenza sì 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 altre volte ci sono dei siti che sono stati fatti da persone tecniche che non sanno niente di internet marketing e in questo caso chi ha competenze in internet marketing può fare la differenza ancora certo certo però in generale allora dipende dalla materia di cosa tratta il sito per siti che sono molto orientati al contenuto come dei blog dei blog di nicchia conoscere la materia non è sempre un requisito per esempio una volta vedi in vendita un sito che faceva dei confronti tra delle pulitrici a vapore e non serve essere un esperto di pulitrici a vapore si può trovare comunque anche qualcuno che può scrivere articoli per questo sito mentre noi ci occupiamo invece della parte di internet marketing piuttosto che posizionamento web o altri aspetti del sito questo hai ragione è interessante è interessante perché poi uno dice magari compongo una squadra dove la conoscenza del settore ce l'ha qualche di un altro e intanto porto avanti altre cose su cui magari ho competenze questo è giusto bene allora da questo punto ci spieghi un po' come fare un'analisi corretta per stimare il prezzo di un sito perché poi alla fine magari mettiamo che lo voglio comprare questo mi spara un milione come faccio c'è un metodo fair per entrambe le parti sì allora c'è una procedura che viene chiamata due diligence che forse si traduce con diligenza dovuta non so se esiste una traduzione in italiano o dire vero ed è una cosa che ha metà tra scienze ed arte non è una cosa cioè la due diligence viene fatta per qualunque tipo di business offline non è una cosa specifica di siti web per quando si applica siti web ci sono un paio di cose in più da considerare o diverse da considerare la prima parte è una valutazione tecnica cioè capire quali sono le dinamiche del sito da dove arriva il traffico quali sono le pagine più visitate come il traffico viene convertito e per questo chiedo quando approccio un venditore chiedo subito l'accesso a google analytics e google analytics oramai è lo standard per analisi delle statistiche web e chi non ha chi non offre google analytics e cerca di offrire invece ti faccio vedere i log del server o altre cose già mi fa un'impressione molto negativa e non mi fido perché comunque le informazioni prese dal server dell'hosting sono molto facili da modificare uno può generare centinaia di migliaia di visitatori fasulli con un paio di comandi per cui google analytics voglio l'accesso a google analytics per analizzare tutto questa parte di traffico e poi lì bisogna fare sempre attenzione qual è la sorgente di traffico magari scopri che il traffico arriva da un sito di referral quindi da qualche altro sito che sta inviando il traffico ok allora qual è la relazione con questo sito di referral c'è una partnership è il sito di un suo amico è una cosa che sta pagando e domani dopo che compra il sito viene tolta va fatta tutta un'analisi di questo tipo e poi ci sono anche beh sempre la valutazione tecnica anche la valutazione del sito in sé insomma come è posizionato che tipo di lavoro di SEO è stato fatto per esempio questo è molto importante perché soprattutto qualche anno fa andavano di moda delle tecniche di SEO che oramai non funzionano più per esempio acquistare backlinks centinaia di backlinks per una manciata di dollari e queste tecniche alla lunga danneggiano il sito magari funzionano nell'immediato poi tu quando lo compri ora che l'hai comprato hanno già finito il loro effetto e torni miserabile come prima sì e per questo ecco una cosa importante io non valuto solo siti che hanno almeno un anno di vita perché siti più insomma sito creato tre mesi fa è più probabile che sia stato creato con già in mente l'idea di venderlo il prima possibile e quindi utilizzando una serie di tecniche e una serie di cioè un approccio che funziona nel breve termine per cui ok facciamo questo sito la gente arriva poi in realtà non c'è c'è questo sito per tre quattro mesi funziona poi dopo che l'ho venduto vabbè non è più problema mio per cui io ho sempre almeno 12 mesi una storia insomma un po' consistente di traffico ed economica la valutazione finanziaria che è la seconda parte della decision vuol dire analizzare le entrate e uscite degli ultimi mesi di vita del sito e di solito si chiede un documento che è un profit and loss statement si chiama quindi banalmente una tabellina di excel con i vari mesi dell'anno e dettagliate quali sono stati gli ingressi quali sono state le uscite che poi vanno verificate ogni singola voce tante volte ci sono delle mancanze più o meno volute in cui il venditore si magari non inserisce dei costi della pubblicità campagne adwords traffico facebook insomma tutte queste cose devono ovviamente essere dettagliate e un'altra cosa abbastanza sottovalutata è quanto tempo viene effettivamente speso dall'attuale proprietario nella gestione del sito perché anche quella cosa va tenuta in considerazione ed anche la parte un po' più difficile da valutare perché insomma si tende sempre a dire no ma questo sito viene gestito basta mezz'ora al mese e funziona poi in realtà tante volte richiede molto più lavoro di mezz'ora al mese immagini diverse volte mi è capitato di vedere frasi del tipo questo sito un'ottima occasione per creare un guadagno passivo richiede solo mezz'ora al mese però lo vendo perché non ho più tempo vabbè allora lì c'è qualcosa di strano magari non è mezz'ora al mese se non hai tempo per gestirlo certo perché dopo magari ci sono anche le spedizioni e altre cose che non vengono tenute in conto magari è mezz'ora al mese per aggiornare il csm poi dopo magari c'è del resto senti tu prima però hai detto una cosa molto curiosa che ha attirato la mia attenzione che è stata quella di quando compri un sito con degli infoprodotti sono tutti gli asset che vanno a essere comprati non solo il dominio ecco come puoi tutelarti da fatti spiacevoli per cui tu compri un infoprodotto il giorno dopo chi te l'ha venduto esce con un prodotto che è praticamente analogo e ti fa concorrenza usando la stessa newsletter cioè la stessa base dati su cui mandare la newsletter fondamentalmente lo stesso prodotto che magari gli ha cambiato nome ecco ci si può tutelare si fa firmare qualche cosa oppure no? si è abbastanza comune chiedere di firmare un accordo di non competition un non competition agreement quindi un contratto di non concorrenza in cui il venditore si impegna a non fare concorrenza per una durata non so di uno due tre anni poi ci si accorda certo però è anche vero che sul web se il compratore cioè il compratore venditore che sono in due paesi distanti magari in continenti diversi è veramente difficile poi rivalersi in caso di cioè in caso di problemi e soprattutto è un discorso economico cioè se si compra un sito da un paio di migliaia di euro poi nessuno andrebbe per vie legali internazionali a farsi a farsi rivalere se se il venditore la 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 fa della concorrenza sleale in qualche modo però è vero che dal punto di vista tecnico si dal punto di vista tecnico insomma non è così facile se se un sito ancora se un sito che è stato costruito tre mesi fa magari si è sicuramente più facile però se si parla di una un business online che ha un paio di anni di storia una certa una mail list che è cresciuta organicamente nel tempo eccetera allora diventa anche anche più difficile insomma se c'è dietro del lavoro vero è anche non è così facile da da copiare e ripartire da zero immagino immagino no hai mi hai hai detto anche un'altra cosa che mi aveva colpito molto che era quello che questo business è molto simile al real estate no o comunque alla pretesa di di creare un'analogia bene una volta che compro un sito cosa devo fare cioè io quando compro una casa solitamente faccio un po' di ristrutturazione rifaccio i bagni tipicamente è quello che un italiano fa compri una casa dove c'è già stato qualcuno rifai il bagno ecco per i siti come avviene la ristrutturazione cioè cosa succede dal momento in cui io ho fatto l'acquisto sì allora l'idea sarebbe di fare una ristrutturazione e migliorare tutto però in realtà e qua parlo per esperienza per evitare disastri il periodo iniziale è sempre meglio non toccare niente e cercare di capire come funziona il sito se veramente ha le dinamiche e gli introiti che sono stati per cui l'avete comprato per cui è stato comprato quindi personalmente nel primo mese è più uno studio e a volte mi sembra come come avere un bebé non sai come funziona che devi trattarti quindi capire come funziona e quali sono le dinamiche il vecchio proprietario ti dà una mano o no sì di solito lì fa parte dell'accordo c'è sempre un periodo di transizione in cui il vecchio proprietario è risposto via email o attraverso delle skype call a dare a dare un supporto e a rispondere a tutte le domande sì poi ok dipende da accordo a accordo a volte ho visto che il proprietario precedente se è un sito con un certo tipo di contenuti a volte il proprietario precedente fornisce un pacchetto di articoli così che chi inizia ha già del contenuto per i prossimi mesi comunque sì l'obiettivo della prima fase è creare una baseline quindi una base di riferimento per verificare che il sito funzioni come 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 si si aspetta certo poi si passa ad una fase un po' più all'azione ecco in cui di solito identifico quali sono le quick win cioè le cose che so che facilmente possono dare risultati per esempio creare una main list se non dovesse già essercene una velocizzare un sito che magari è lento quindi magari degli aspetti tecnici o degli aspetti di usabilità evidenti è sempre importante fare è un lavoro molto analitico cioè è sempre importante misurare cosa era prima cosa è dopo introdurre solo una modifica alla volta usare una serie di tool che ci possono aiutare a Google Analytics in primis per aiutare a capire qual è il risultato della modifica perché cioè mai dare niente per scontato perché quello che per noi potrebbe sembrare una miglioria in realtà potrebbe non esserlo per cui è sempre sempre abbastanza analitico certo e personalmente sono ho background tecnico per cui tendo a concentrarmi magari sbagliando sulle sulle tecnicismi e sulle cose di ottimizzazione del sito e solo successivamente penso un po' più alla parte monetizzazione o la parte marketing poi ognuno penso che sono approcci diversi no questo dipende dai talenti che uno ha che può spendere però cosa succede quando gli utenti si accorgono che non c'è più il vecchio proprietario ma è saltato fuori Daniele Besana cioè non c'è un po' di diciamo di dispaesamento ecco uno resta un attimo sì dipende molto dal tipo di sito non ho mai avuto problemi in questo in tal senso certo se si compra un sito che è molto legato a una persona per esempio un sito di non so un sito di cucina di uno chef famoso che ha un seguito personale perché è quella persona o quella personalità o ha un certo tipo di voce e diventa molto difficile restituirlo ho visto in vendita a volte dei blog di viaggi creati da delle coppie magari una coppia che ha viaggiato per qualche anno scrivendo un blog di viaggi e lì però è difficile comprarlo entrare dire ah non c'è più non ci sono più loro adesso ci siamo noi perché comunque il seguito che han creato è molto legato al loro stile il carattere voce eccetera ma per molti altri siti non vedo problemi soprattutto se sono siti che hanno la maggior parte del traffico proveniente da 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 motore di ricerca quindi è sempre cioè non è tanto un traffico di ritorto di gente che è fidelizzata ma persone che fanno una ricerca e trovano il sito non vedo problemi in questo senso e a volte anzi spesso chiedo al proprietario se posso ottenere la sua la sua biografia e la sua foto nella pagina di About come il founder cioè sì sì comunque lasciarlo perché vabbè dà un po' più l'idea che ci sia un team dietro al sito e poi mi sembra carino sia per lui tante volte essendo effettivamente i fondatori fa piacere anche a loro rimanere menzionati e poi anche per chi segue che vede che insomma c'è ancora quella persona ce ne sono altre certo molto interessante a questo punto ci fai qualche esempio magari con i prezzi così di acquisti che sono andati bene o male i risultati che hai ottenuto ecco ci racconti qualche caso reale ecco così ci facciamo un'idea ancora più nel dettaglio del tipo di attività che fai sì allora questi in questi anni che poi ho iniziato a fine 2011 ho avuto alcuni alcuni casi alcuni acquisti che sono andati bene altri che sono andati così così fortunatamente pochi che sono andati male sono stato nella fascia inizialmente nella fascia tra i 1000 e 5000 euro di come prezzo d'acquisto e poi ho alzato un po' il tiro e con un acquisto superiore oltre 10.000 euro giusto giusto per dire per dare un'indicazione poi chiaro i siti online se ne possono comprare da partendo da 100 euro fino a milioni di euro sono dipende ci sono di tutti i prezzi diciamo io sono stato in questa fascia un esempio di cui posso parlare sono abbastanza fiero è stato uno di questi siti di lavoro che per dare un'idea è tipo Monster ovviamente molto più in piccolo che operava in Colombia quindi nella nazione Sud America mi piacevano questo tipo di questo tipo di siti perché i siti di annunci perché il contenuto viene inserito alle aziende per cui quello che si dice user generate content non dovevo scrivere gli articoli o inventarmi niente e poi effettivamente mettere in contatto aziende che cercavano persone con gente che cercava lavoro per cui c'era un non so mi dava la sensazione che stassi facendo qualcosa di utile il sito all'acquisto generava 120 dollari al mese al netto delle spese e lo comprai per 2000 dollari per cui è una valutazione di 16 volte il prezzo netto mensile certo perché di solito sì ecco questo non l'abbiamo ancora detto ma per la valutazione del sito si prende sempre il netto mensile e poi lo si moltiplica per un valore che che dipende da tanti fattori però indicativamente dalle 12 al 20 ecco per dare così un riferimento in questo caso 120 euro al mese netti pagato 2000 dollari è una valutazione ho applicato un moltiplicatore di 16 quindi 16 volte il netto mensile che è abbastanza cioè abbastanza standard ecco ok è comune che che venga fatto così il calcolo ecco sì e il proprietario e questo perché il proprietario precedente aveva perso comunque interesse nel sito e stava insomma era una di queste situazioni in cui era stato acquistato poi non si era perso interesse non c'erano risultati che voleva e l'ha venduto e in questo per questo sito il lavoro che ho fatto andava in tre direzioni il primo era aumentare il traffico esistente perché ci sono dei siti che sono dei motori di ricerca dedicati al lavoro ah ok e cioè immagina google però invece di dove cerchi cerchi dei lavori e quindi questi sono siti che una volta che sei indicizzato lì ti portano molto traffico per cui questo è stato per aumentare il traffico poi ho lavorato su aumentare i guadagni e questo sito guadagnava principalmente attraverso pubblicità AdSense per cui ho fatto un lavoro di migliorare il posizionamento della pubblicità in un modo un po' più aggressivo però che al fine dei guadagni ha dato un sensibile miglioramento ho aggiunto la pubblicità nella newsletter perché c'era una newsletter che segnalava i nuovi lavori e non era monetizzata per cui anche lì è stata un'altra fonte di guadagno e poi ho lanciato un servizio di pubblicazione di annunci a pagamento per cui se vuoi avere il tuo annuncio in prima pagina ben visibile eccetera e quindi avere più candidati c'era una una fee il terzo terza elezione del collaboratore era ridurre i costi e qui è stato abbastanza facile perché il proprietario presente usava un hosting molto costoso sono passato a una soluzione di hosting più economica e e qui si è realizzato subito una riduzione di costi insomma però anche questa è una direzione importante su cui lavorare perché per aumentare il margine anche anche i costi vanno tenuti sotto controllo anche così nel piccolo i profitti erano passarono da 120 dollari al mese a 600 dollari al mese e nei primi tre mesi e mezzo recuperare l'investimento iniziale che per me è stato diciamo un gran successo ma perché da lì in poi è stato tutto profitto e dopo sì questo sito dopo un anno e mezzo l'ho rivenduto per 4.000 dollari giusto per finire la storia per cui si è stato sia un guadagno di marginalità che un guadagno nel valore stesso del sito che è cresciuto beh però non è male tutto sommato anche se devo dirti la verità questi numeri qui io non so quanto lavoro c'è dietro cioè nel senso questi siti hanno semplicemente quanto ti ha portato via fare questo tipo di attività perché in tre mesi che tu ti sei ripagato l'investimento è ottimo però poi magari hai lavorato giorno e notte per tre mesi questo non lo so però è interessante magari se avessi continuato magari diventavi il piccolo leader del mercato del lavoro della Colombia beh non lo so lì penso che sono uscito al momento giusto perché comunque le cose già iniziavano a cambiare e non so penso di anche l'uscita è stata abbastanza strategica ecco capisco che poi in un mercato globale magari arrivano anche in Colombia quei player che ci sono da tutte le altre parti quindi si va a perdere un po' ci racconti qualche altro esempio che stuzzica la curiosità a questa storia sì un altro è un tema è un tema WordPress perché sai che WordPress ha tutto un ecosistema fatto di temi e plugin che che ruotano intorno e l'avevo trovato in vendita su su Flippa questo sito che era proprio un sito che vendeva un tema e il proprietario precedente anzi non vendeva un tema in realtà perché il proprietario precedente faceva scaricare gratuitamente questo tema e guadagnava con delle tecniche di SEO che erano già vecchie a quel tempo cioè metteva in fondo la pagina nel footer dei backlink che davano dei vantaggi SEO perché insomma lui dava questo tema gratuitamente per poi guadagnarci con questi link è una tecnica che non funziona più e quindi il proprietario precedente aveva perso qualunque interesse e avevo comprato questo sito per 1200 dollari e creai una versione premium quindi lasciai quella gratuita togliendo il discorsore backlink che era una porcata e a fianco di quella gratuita avevo messo una versione premium quindi una versione con delle caratteristiche in più che funzionava per mobile quindi responsive insomma delle caratteristiche aggiuntive che è in vendita 39 dollari e anche in questo caso diciamo il valore vero era che comunque il sito aveva traffico perché era ben posizionato nei motori di ricerca per cui il canale marketing diciamo era lì la gente trovava questo sito la gente trovava questo tema e poi aveva l'opzione di comprare quello gratuito o quello a pagamento oppure usare quello gratuito e poi passare a quello pagamento eccetera e anche in questo caso in qualche mese l'investimento si è ripagato si qui c'era un po' più di lavoro perché a parte lo sviluppo del tema che comunque ha richiesto qualche giornata di lavoro poi c'era tutta una parte di supporto ai clienti per cui no vabbè però in pochi mesi ripagarsi dell'investimento e poi guadagnare un po' questo tema ce l'hai ancora o l'hai dato via di nuovo questo ce l'ho ancora sì interessante anche perché quel tema lì se poi si stabilizza diciamo si è diventato abbastanza passivo ai limiti dell'abbandonato cioè non avrei potuto farci sicuramente di più e sviluppare più nuove versioni comunque adesso è ancora in vendita e sta funzionando in modo abbastanza passivo ho capito no no è interessante comunque anche questo è un caso di successo magari sono piccoli successi ma se li metti uno dietro l'altro fanno comunque cifre interessanti questo diciamo discorso che hai fatto è valido per il siti web ma è valido anche per le app cioè le app diciamo del mobile ecco sì più più recentemente ci sono anche lo stesso tema si è iniziato ad applicarsi anche per le app per esempio su flippa.com che ho già detto è il più grande marketplace per compravendita di siti adesso c'è anche una sezione per le app e ormai insomma c'è un mercato per tutto per le app si possono anche comprare account di instagram o pagine facebook questo però non viola gli accordi con i social per esempio se io volessi vendere io ho un gruppo linkedin numerosissimo che me ne voglio disfare lo vorrei vendere però non credo di poterlo vendere perché non so se linkedin e il contratto che ho firmato comprendono anche la possibilità che io venda questi asset che sono di loro proprietà sì non sono sicuro neanche io dire il vero sicuramente ci sono degli affari da fare anche vendendo queste altre cose se è possibile però non ho esperienza diretta in questo mi sono stato sul tema dei siti e tutte queste altre cose però è anche vero che quando compro un sito tante volte vengono passati gli account dei social come parte dell'acquisto per cui non so se magari non si può vendere direttamente un gruppo ma può essere trasferito come parte di un asset di un business no no interessante ascolta Daniele mi sa che qui e qualche d'uno vorrà iniziare subito questa attività e avrà bisogno di un mentore che gli dia una mano dove ti possono trovare online i nostri ascoltatori sì volevo posso trovare un paio di consigli se qualcuno vuole prendere questa strada assolutamente sì innanzitutto volevo dire abbiamo parlato dei casi di successo comunque dei piccoli casi di successo però non sempre le cose sono andate bene ritengo fortunato che non ho mai buttato via troppi soldi però in un paio di casi non sono riuscito ad aumentare i guadagni e in un caso specifico i guadagni sono scesi notevolmente anche per colpa mia diciamo perché alla fine il sito è diventato mio eventualmente ho venduto il sito realizzando una perdita quindi insomma non è tutto rosa e fiori non è una cosa che funziona automaticamente sempre e per dare qualche consiglio a chi è interessato a investire in siti web direi innanzitutto di partire con dei piccoli investimenti perché bisogna farsi come tutto bisogna farsi le ossa bisogna capire come funziona quindi partire con degli investimenti piccoli sapendo che potenzialmente si potrebbe perdere tutto quindi non mettere mai soldi che cioè sempre investire dei soldi di cui non hai bisogno almeno non hai bisogno in immediato poi scegliere un sito dove si sa di poter dare valore aggiunto quindi in base alle competenze specifiche di chi acquista trovare qualcosa che è complementare terzo consiglio è verificare e riverificare tutto prima di siglare l'accordo non fidarsi perché c'è veramente tanta nel settore rischioso c'è veramente tanta fuffa in giro per cui fare molta molta attenzione e una volta capito il gioco consiglio di creare un team perché creare un team di persone che seguono i vari aspetti di un sito è l'unico modo per scalare soprattutto quando si iniziano a gestire tanti siti se uno vuol creare un portfoglio di diversi siti l'unico modo per poterli gestire è creare un team e lo dico per esperienza perché è una cosa su cui avrei dovuto iniziare a lavorare prima questo discorso del team corretto la squadra che vince sempre per il discorso di contatti posso lasciare la mia mail che è daniele chiocciola wp-ok.it una cosa tra l'altro su questo sito c'è anche un articolo che è una piccola introduzione a comprare e vendere siti internet per cui se qualcuno è interessato do l'indirizzo poi penso che tu Giorgio lo metterai nelle note o qualcosa assolutamente sì come tutti gli altri siti che abbiamo citato sono tutti nelle note ok l'indirizzo è wp-ok.it slash comprare siti e qui c'è un articolo introduttivo molto interessante io ho avuto modo di leggerlo e sicuramente ci sono tanti spunti approfondimenti di quello che abbiamo detto di quello che abbiamo detto oggi grazie daniele per essere stato con noi è stata una puntata sicuramente curiosa ci ha insegnato qualcosa che non era così facile conoscere grazie davvero niente grazie a te Giorgio grazie ciao un saluto a tutti ciao 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 bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di compravendita di siti web un argomento veramente interessante grazie per essere stati con Daniele e con me spero sia stato un episodio ricco di spunti utili per voi e per le vostre realtà di business se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz barra 3 1 ripeto www.merita.biz barra 3 1 la mia email come sempre ve la ricordo se avete domande dubbe o questioni da chiedere è giorgio chiocciola merita.biz ripeto giorgio chiocciola merita.biz se hai apprezzato il podcast o hai voglia di lasciare un feedback sulla trasmissione alla pagina www.merita.biz barra love trovi tutte le indicazioni per lasciare i tuoi suggerimenti e far conoscere anche ad altri i contenuti interessanti che hai ascoltato nel podcast come sempre vi ricordo che per noi sono molto importanti le recensioni su iTunes abbiamo passato le 60 noi speriamo proprio di riuscire ad arrivare a 100 per la fine per la fine dell'anno quindi se volete darci una mano una recensione vi porta via a pochi istanti e per noi vuol dire comunque tanto vuol dire anche la possibilità di capire cosa volete nelle prossime puntate cosa vi piace cosa non vi piace un'occasione per poterci migliorare bene è davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao Giorgio